La prima cosa che spiego ai ragazzi che vengono a fare il turno in emodinamica prima di pensare di fare delle cose eccezionali dentro il cuore o dentro le coronarie pensate che quella persona lì potrebbe essere vostro padre, vostro fratello, voi. Il mio lavoro lo vedo sempre come una stanza di ospedale cioè il letto del paziente è me vicino a lui. Questa è la mia immagine del mio lavoro. Non è una cosa che si impara e non è neanche una cosa che si impone cioè lo devi capire, lo capisci. La prima cosa che si impone, la prima cosa che si impone, la prima cosa che si impone,